ebbene proprio nel suo ultimo giorno di vita al vecchio aveva fatto di dimostrare la validità di questa sanzione ne arcovice di tutto strappare i nomi dei congiurati rimasti a Elea Zenone con la massima faccia tosta si limita a citare uno per uno tutti i politici più legati al tiranno di alci nella razza vita dei filosofi non abiti e sette e solo quando la tortura raggiunse l'intensità non più sopportabile permise di dire tutta la verità fatto però che ad ascoltare ci fosse solo ne arco quando questo si avvicina per meglio di udire i nomi dei complici gli addentrò l'orecchio e non mola la presa finché non cade il traffitto dalle spade dei cartifici di odora sicuro 10 18 2 e non basta non essendo ancora morto fu di nuovo sottoposto a tortura anche lui si ammazzò la lingua con un morso e la sputtò in faccia al tiranno Clemente Alessandrina stramata 4 57 allora finalmente ne arco si è reso capì che con un tipo del genere non c'era l'inter affare come altro che fosse pestato in un mortaio ridotto in piccoli pezzi di oggi nella erzia vita dei filosofi 9 27 sembra che prima di esalare l'ultimo respiro il poveretto abbia dichiarato nella vita la virtù non è sufficiente c'è che ha bisogno anche dell'aiuto di un felice destino come massima dobbiamo dire non ci è mai sembrata una frase molto originale ma dal momento che è stata pronunziata con mezza lingua e dal fondo di un mortaio riteniamo che possa senz'altro passare alla storia Platone Parmenide 128 C anzi no scusate Hunterstein l'opera citata pagina 19 molti sfattevano Parmenide Platone Parmenide 128 C è la cosa non poteva far piacere a un allievo fedele come Zenone che da quel poco che siamo riusciti a sapere doveva essere un tipo polemico e permaloso l'argomento della presa in giro era il principio stesso dell'eneatismo l'essere ha e l'annassere non è Per via di un'incongruenza di fondo Gesù dicevano i critici ma com'è possibile concepire l'essere se non sia contemporaneamente anche l'idea del non essere come intuire l'uno senza conoscere il mortepice o come parlare della luce se non si è avuto almeno una volta l'esperienza del buio e allora dal momento che l'essere ha bisogno come al limite pregiudiziale della conoscenza del non essere completiamo il pensiero di Parmenide e diciamo che l'essere è e il non essere non è eppure essendo necessari per controbattere queste critiche Zenone tira fuori un metodo che partendo dalle certezze degli avversari segue un itinerario logico e giunge a conclusione impossibile l'importante per lui è che in ogni punto del ragionamento si è sempre rispettato il principio di non contraddizione se come filosofo non possiamo considerare una storia di prima grandezza essendo